La notizia del giorno, almeno di ieri, perché ieri mi avete bombardato con questa notizia, che Ian Valliere ha deciso di ritirarsi. Lui ha 33 anni, pensava fosse più grande, invece ha 33 anni e ha fatto appunto questo video, The Next Chapter, dove non dice praticamente niente né sui motivi né su quello che farà in seguito. Fondamentalmente dice che non ha quella passione, quella spinta per gareggiare, ha fatto un po' tutto quello che voleva fare nel bodybuilding, in più vuole ritirarsi adesso che sta ancora bene, prima che gli succeda qualcosa, nel senso mi sto ritirando in salute, è arrivata l'ora, è arrivato il momento, queste sono le motivazioni. Non ha detto niente di specifico, questa è la sua ultima apparizione al Toronto Super Show, dove appunto ha vinto e si è qualificato per l'Olimpia, che a questo punto penso che non farà, perché se si è ritirato non gareggiare l'Olimpia. Non ha detto niente al riguardo, io credo che fosse una buona prestazione a livello di definizione, a livello di posing, però un bodybuilder meno mato praticamente, perché a parte polpace e tricipiti che non li ha mai avuti, la schiena si stava un po' sciogliendo, soprattutto nella parte sinistra, e la cosa più notevole che si è notata di più è il buco nel pettorale, tra i pettorali, questa atrofia. Diciamo che secondo me ha scelto il ritirarsi anche per questo motivo, perché sa di non essere più competitivo, nonostante sia un bodybuilder che si è piazzato, se non sbaglio, due volte settimo al Ministero Olimpia, è arrivato secondo all'Arnold Classic l'anno che ha vinto Nick Walker, quindi un bodybuilder di tutto il rispetto, però secondo me sa che il suo fisico si sta un po' deteriorando e che non ha più margini di miglioramento, anzi ha soprattutto margini di peggioramento. Io penso che adesso si dedicherà a fare il coach, perché comunque lui ha fatto il coach di Chris Bamster tutti gli anni le sue vittorie all'Olimpia, a parte quest'ultima dove è stato appunto Henny Rambo, il nuovo coach di Chris Bamster, quindi adesso immagino che con questo blasone di aver fatto il coach di Chris potrà tranquillamente avere un'ottima carriera come coach, però io credo che le motivazioni siano più gatto date dal fatto che non fosse più competitivo, ha avuto troppe critiche dopo questa vittoria ai danni di Asam Mostafa, se vi ricordate guardatevi il video dove parlo appunto di questa vittoria di Ian Valliere, se non sbaglio si chiama Ian Valliere vince il Toronto Pro Super Show 2023, una cosa del genere, comunque lì parlo un po' del suo fisico e queste cose qui, quindi ciao Ian. Passando ad altro, il buon Regan Puccettone Grimes è a Milano, quindi tac, perché deve gareggiare questo fin a settimana al Flex Weekend, come ho detto sei miliardi di volte e devo dire che nonostante io lo dia come favorito e in più mi piaccia molto come bodybuilder, qui vedete uno sui allenamenti che ha fatto lì a Milano, non mi pare che sia molto definito, nel senso chiaramente stiamo guardando delle foto e dei video su Instagram o su YouTube come in questo caso e non dal vivo, quindi sicuramente mi sto perdendo, ci stiamo perdendo qualcosa, però mi sarei aspettato qualcosa di meglio a livello di definizione, chiaramente secondo me è il bodybuilder più completo, nel senso se Nathan Dasha arrivasse ultra definito penso che vincerebbe Nathan, nonostante sia meno completo, dipenderà molto da cosa vogliono vedere i giudici, qui fa alcune pose nella posizione della palestra, poi fa anche alcune pose a casa sua, che ha affittato a, non so se a Colonio Monzese, dove Minka si ritrovi nei pressi di Milano, quindi non lo so, io mi sarei aspettato qualcosa di più, detto molto sinceramente, le foto che abbiamo visto su Instagram sembravano molto meglio, perché chiaramente stiamo parlando di Instagram, luci perfette, filtri perfetti, foto scelte ad hoc per essere pubblicate su Instagram, e mi aspettavo di più, non so che ne pensiate voi, sicuramente è un ottimo bodybuilder, mi piace tantissimo, è il mio preferito tra quelli che gareggiano, però mi sento di dire che mi sarei aspettato qualcosina in più il livello di definizione, poi mancano due o tre giorni da queste foto, queste video, anzi quattro quando ho fatto questo video, quindi sicuramente c'è margine di miglioramento, però mi sarei aspettato, non dico una death face alla Dorian Yates, una definizione da Philit, ma qualcosina in più, a questo punto bisognerà vedere se gli basterà portare questa condizione per vincere, o se effettivamente stia rischiando, perché Nathan D'Ascia è uno che arriva definito in genere, nonostante una gareggia da un po', nonostante abbia dei femorali più scarsi, nonostante abbia un'attaccatura dorsali troppo alta per i miei gusti, e anche per i gusti dei giudici e per i canoni di valutazione del bodybuilding, se arriva più definito di Reagan, penso che possa anche vincere Nathan a questo punto, però vedremo, questo back towel bicep è fantastico, per eccezione fatta dei bicipiti che non ci sono, cioè picco del bicipite non pervenuto soprattutto a destra, però il resto c'è, c'è qualche dettaglio nei femorali, ma non quelle striature nei glutei che mi sarei aspettato, quindi non lo so, ditemi anche voi che ne pensate, io spero che faccia il colpaccio, però come dico sempre, spero nella meritocrazia, più che nei miei gusti personali, più che per le mie simpatie, cioè io spero che vinca il migliore, e se Reagan arriva per l'ennesima volta poco definito, non lo so, non lo so davvero cosa pensare di lui a questo punto che potrebbe appendere il perizoma al chiodo, perché ogni volta mi fa ben sperare, penso che faccia ben sperare molta gente, e poi non dico che caghi fuori, però non lo so, e qui si vede anche dopo questa sessione di posing molto affannato, cioè boh, secondo me non sono così sicuro che possa vincere, quindi vedremo domenica che succeda, fatemi sapere che ne pensate di Ian Valliere, del ritiro di Ian, e se Reagan sta rischiando secondo voi, buona?